Amici di Talk Sicilia, bentrovati in questo quarto appuntamento del focus sull'Università di Palermo. Quarto appuntamento che ci vede la presenza del professore Pietro Corso, che è professore dell'Università di Palermo, ma che ha avuto la delega del Rettore alle infrastrutture digitali e ai progetti extraordinari. Due parole sicuramente, due diciture a noi note, ma come vedremo in questi 20 minuti, che rivoluzioneranno la Università di Palermo, perché come vi renderete conto, si apriranno nuove frontiere in una società dove l'innovazione e la digitalizzazione ha una velocità, consentitemi il termine, più veloce della luce. Quindi abbiamo la quarta puntata, come dicevo, dopo aver ospitato il presidente dell'Erso, il pro-rettore alla vita studentesca, la scorsa volta il magnifico rettore e adesso abbiamo il professore Pietro Paolo Corso. Professore, anzitutto grazie per aver accolto il nostro invito. La ringraziamo doppiamente perché penso che non sia il consueto incontro con l'Università che già abbiamo sviscerato tra alloggi, fra carenze, fra infrastrutture, fra corsi di studio, eccetera, ma noi parleremo di formazione professionale, nel senso lato del termine che adesso ci spiegherà, e soprattutto di digitalizzazione, che molto spesso se ne parla tanto, però rischia questa parola di passare inosservato, perché molto spesso l'utente, il cittadino, non riesce a percepire concretamente questo concetto di digitalizzazione, tenuto conto che ancora in molti casi si figuri come lei ben sa, non arriva neanche internet ad alta velocità. Detto questo, questa premessa partirei proprio da questa delega, perché nasce questa delega che è nuova fra l'altro, perché nasce, qual è stata l'esigenza, cosa vi siete ritrovati sulla scrivania? Tanto la ringrazio per l'invito, è un ringraziamento duplice per l'invito a me a rappresentare l'istituzione relativamente alle deleghe che il rettore ha pensato di assegnarmi, e poi per l'attenzione che state dedicando all'università, che spesso è oggetto di attenzioni, diciamo nell'accezione delle teorie del termine, si parla dell'università in occasione di scandali e altro, e poco invece delle opportunità o del ruolo dell'università all'interno della società, ruolo che riguarda sicuramente la didattica e la ricerca, il rapporto con gli studenti, tutte tematiche che sono state affrontate, come lei ha detto nella premessa, nelle occasioni di incontro precedente. In questo caso io cercherò di illustrare quali sono le iniziative che l'università ha posto in campo per cercare di ricoprire effettivamente questo ruolo all'interno della società, che è un ruolo ben più ampio di quello che solitamente la vulgata generale trasmette. Infatti noi stiamo cercando, e il rettore lo ha voluto fortemente, di incrementare ed estendere il rapporto dell'università col territorio, sia perché questo rappresenta un'opportunità per l'università stessa, ma anche perché riteniamo rappresenti un rapporto, un'opportunità eccezionale per il territorio. Possiamo dire che l'università scende in campo, mettiamola così. Esatto, scende in campo a 360 gradi perché per carità... Esce da Palazzo Steri, mettiamola così, e vuole toccare con mano il territorio. Esatto, vuole toccare con mano il territorio attraverso un processo di commistione, perché noi non vogliamo soltanto andare nel territorio, vogliamo che anche il territorio venga all'interno, entri in contatto con l'università, in una concezione di territorio, attenzione, molto ampia, dal momento che la nostra presenza riguarda anche le province di Trapani, Agrigento e Caltanissetta, quindi la nostra non è una presenza territoriale esclusivamente palermitana, ma anche estesa, e noi vorremmo cercare di estendere ulteriormente questa presenza anche fuori dai presidi geografici, nei quali noi siamo strettamente presenti, attraverso un rapporto col territorio che abbia una duplice valenza, come si dice nella teoria dei giochi win-win, dove tutti vincono. Non c'è un'università che accoglie o raccoglie risorse per un utilizzo proprio autoreferenziale, al contrario, un'università desiderosa di un rapporto col territorio che raccolga anche gli stimoli del territorio, dal momento che non è detto che noi sappiamo esattamente cosa fare, ma questo dialogo riteniamo che sia un dialogo fondamentale e anche per quelle che sono le cronache estremamente attuali degli ultimi giorni, per esempio con riferimento all'utilizzo molto ostentato e le risorse del PNRR, l'università, non solo quelle di Palermo, attenzione, quelle italiane in genere, da questo punto di vista, ed è un elemento che è poco valorizzato a livello nazionale, è l'unica realtà che è riuscita a rispettare il cronoprogramma di spesa finora nell'allocare tutte le risorse, tutti i progetti previsti dal PNRR. Scusi se l'interrompo, ritorniamo alla nostra materia prima che è la digitalizzazione. La regione in Sicilia ha investito 25 milioni di euro, 8 vanno all'università di Palermo per la digitalizzazione, cioè è tradotto vista da me è una rivoluzione totale, possiamo sintetizzare entro fine anno, perché a quanto pare questi soldi devono essere spesi entro fin anno. Cosa dal primo gennaio, metaforicamente, 24, troverà lo studente e il palermitano di diverso all'università, professore? Assolutamente sì, e anzi con una prospettiva più ampia, come dicevo prima, rispetto a quella del perimetro strettamente universitario. Prima di fare questo, una chiosa molto veloce di un altro esempio, secondo me, ritengo di ottima gestione. L'anno scorso ci siamo rivolti alla regione intorno al mese di febbraio, avendo evidenza del fatto che nella programmazione 14-20 c'era un residuo di circa 25 milioni di euro destinati agli enti locali non utilizzati sul digitale. Abbiamo chiesto alla regione, abbiamo interloquito con l'assessore Armato e col direttore generale dell'Agenzia regionale di innovazione tecnologica, il dottore Falgares, della possibilità di utilizzare queste risorse a livello regionale. Hanno aderito, a settembre hanno fatto l'affidamento e a novembre i progetti sono partiti. Su cosa? Le progettualità che noi abbiamo candidato come Università di Palermo sono molteplici. Una, dematerializzazione o meglio, diciamo, abbandono della postazione fisica per il personale amministrativo, del computer in favore di una postazione virtualizzata che consente lo smart working e un notevolissimo efficientamento nell'utilizzo delle risorse. Anche dei dati immediatamente a disposizione degli operatori che così possono accedere alle loro postazioni da ovunque in qualunque momento. E questo che beneficio avrebbe il cittadino e lo studente? Il beneficio perché il personale amministrativo può essere immediatamente sul pezzo ovunque esso si trovi anche in relazione allo smart working che adesso è sempre più diffuso. Quindi sarebbe una sorta di sburrocratizzazione. Da un lato una sburrocratizzazione che sarà molto più forte con un altro progetto che ora menzionerò, ma anche un modello per le altre pubbliche amministrazioni. E qui dicevo il rapporto col territorio. Quello che noi stiamo facendo per l'Università di Palermo stiamo cercando di fare in modo che possa diventare un modello non solo sulla carta, non solo sui titoli di giornale fondamentali, ma anche un modello che noi possiamo passare alle amministrazioni per dire lo avete a disposizione e potete copiare. Sburrocratizzazione. Relativamente alla sburrocratizzazione noi stiamo introducendo un sistema estremamente innovativo di gestione dei documenti, dove per gestione dei documenti non significa soltanto la gestione digitale del documento, ma una gestione nella quale il documento possa essere navigato e indicizzato efficacemente. All'interno del documento sono presenti tutta una serie di parole, di keyword, che il dipendente, come pure il cittadino, l'utilizzatore finanziario, lo studente è opportuno che possa individuare in modo autonomo per poter navigare all'interno della base documentale. E, cosa ancora più rilevante, un progetto di gestione dei processi. I processi all'interno della pubblica amministrazione sono il grande assente. Scusi, professore, io purtroppo devo andare terra a terra per il telespettatore. Quindi, ok, a questo punto la domanda è, ma lo studente entrando nel server, quindi nel sito dell'università, come c'entra ogni giorno per una serie di servizi che offrite e inutile che siamo elencati, in questo contesto ne trarrà beneficio in che senso? Enormi, enormi benefici, perché noi stiamo implementando e, a differenza delle frasi vaghe che solitamente si dicono, in un arco temporale definito, entro il 31-12-2023, buona parte delle cose che sto raccontando sono già avviate e a buon punto, troverà quello che si chiama il fascicolo dello studente. Cioè, un insieme di documenti navigabili all'interno di schermate disegnate appositamente per lui, nelle quali potrà non solo ricostruire la sua storia di rapporto con l'amministrazione e di documentazione che lo riguarda, ma anche, elemento fondamentale, conoscere lo stato di una pratica. Quando lei mi diceva quali sono i vantaggi per gli studenti, noi abbiamo constatato che buona parte dei disagi, gli studenti, li incontrano quando avanzano un'istanza e non hanno idea di quale sia lo stato nel quale si trova quell'istanza, che può essere uno stato, per carità, legittimamente in ritardo, perché manca qualcuno, però qual è? Questa è una cosa fondamentale, oltre ad avere un punto nel quale lui possa trovare tutto ciò che lo riguarda, senza chiederlo a terzi. Una cosa veramente innovativa. E aggiungo, ancora una volta, anche in questo caso, noi stiamo facendo in modo che l'esperienza che stiamo maturando noi possa essere messa a disposizione dell'amministrazione locale, della pubblica amministrazione, perché anche quella le possa beneficiare. Anche perché, a quanto ho capito, è la filosofia che vi siete posti che da ora in poi dobbiamo entrare in questo contesto. Abbiamo avuto soltanto cenni della digitalizzazione, per l'amor di Dio, ma io sono certo che il telespettatore avrà avuto il senso che almeno nelle intenzioni si sta cambiando. Intenzioni che poi devono essere in pratica, perché come ha detto il professore, entro fine anno dobbiamo spendere i soldi, già alcuni progetti sono realizzati, quindi per concludere questa prima parte attenderemo giudizi nel prossimo anno degli studenti. Già nel corso di quest'anno? Già nel corso di quest'anno. E potrebbe essere un'occasione di rivederci. Assolutamente si compiace. Altro tema importante però è la formazione, che tradotto per i profani significa che io mi laureo, avvio una professione, però rimarrò negli anni fermo al concetto di laurea e alle informazioni di quella professione. Quindi il rischio di essere isolato dal mondo, pur essendo un Einstein laureato in ingegneria fisica o essendo un bravo avvocato. Arriva il professore Corso e l'Università di Palermo e con questa formazione cosa dovrebbe fare? Allora io le ringrazio... In estrema sintesi, io mi permesso. Certo. Io la ringrazio dell'avermi attribuito queste capacità taumaturgiche che io non ho. Io posso dire cosa stiamo cercando di fare. Noi stiamo cercando di intanto partire da dei dati di evidenza, la formazione. Un tempo ci si laureava e quella laurea aveva un valore per tutta la vita, se non anche oltre, quando si era in pensione nella capacità di trasferimento della conoscenza ai propri nipoti. Oggigiorno, non perché il senso di laurea sia stato svilito che che se ne dica. Ma c'è quella che lei ha citato prima Einstein, e io ovviamente lungi da me paragonarmi ad Einstein, però io prendo a prestito un altro termine alla fisica, essendo io un fisico, la cinetica. Oggigiorno la cinetica sociale, cioè l'arco temporale all'interno del quale avvengono i cambiamenti della società, sono enormemente accresciuta e i tempi sono enormemente ridotti rispetto al passato. Basti citare il concetto di chat GPT, che sebbene ovviamente è cresciuta nell'arco di anni dietro le quinte, però abbiamo... Ma già in sei mesi ha rivoluzionato... Esatto, nell'arco di sei mesi ormai, non dico non si parli di altro, però è sicuramente un elemento del quale si parla tanto e già comincia ad avere effetti concreti sulla vita delle persone. Uno studio di Goldman Sachs, una grande banca di investimenti americani, recentissimo di aprile e maggio di quest'anno, ha stimato che con l'intelligenza artificiale si perderanno circa 300 milioni di posti di lavoro nell'arco dei prossimi due anni. Quindi questo è uno tsunami. E uno tsunami, e attenzione, posti di lavoro di livello medio-alto, stiamo parlando del bracciante agricolo. Questo quindi introduce il tema che lei menzionava, cioè un ruolo nuovo delle università nell'ambito della formazione, non più e non solo rivolta ai giovani che escono dai licei e dalle scuole superiori, ma a tutta la popolazione che ha un estremo bisogno, non solo di quello che un tempo veniva chiamato aggiornamento, cioè un incremento tutto sommato contenuto di nozioni rispetto a quelle che possiedi, ma in alcuni casi un completo rifacimento del bagaglio conoscitivo, quello che si chiama reskilling, cioè una necessità di dover riformare completamente il bagaglio dei soggetti e dei professionisti per rendere la società competitiva, al passo coi tempi. Quindi in buona sostanza si può sintetizzare una formazione affinché il professionista che lavora, nonostante ciò, sia laureato, rimanga nel mercato e non essere spazzato via nei famosi 300 milioni in estrema sinistra. Assolutamente sì, questo riguarda sia il singolo, sia il singolo professionista, ma anche le imprese. Le imprese, per poter essere al passo coi tempi, hanno un enorme bisogno di aggiornamento del proprio personale e questo può avvenire solamente o in molti casi con l'aiuto di un soggetto esterno come l'università, perché le imprese, il focus principale delle imprese non è quello di fare formazione O, non sono strutturate in questo modo. E ancora una volta le università sono un formidabile alleato, non solo della pubblica amministrazione, ma anche delle imprese in questo, oltre che nella ricerca. Professore, questo è lo scenario. Operativamente, cosa sta facendo sulla formazione l'università? Cioè, di concreto, cosa sta facendo nel contesto di questo scenario? Assolutamente, assolutamente sì. Allora, le iniziative che stiamo ponendo in essere sono molteplici. Da un lato, una serie di accordi mirati e strutturati con le imprese per cercare di realizzare in modo concreto questa commistione, partendo da quelli che sono i loro bisogni. Attenzione, spesso viene sollevato un rischio in quest'ambito, e cioè quello che l'impresa con i suoi interessi legittimi possa condizionare o snaturare la natura dell'università, che deve avere anche un'attenzione a quelli che sono, a quella che è la formazione generalista, che è un patrimonio della nostra cultura. Qui noi riteniamo in modo maturo di poter aggirare questo ostacolo guidando noi i rapporti con le imprese, ma ascoltandoli con le imprese e col territorio. Quindi, che cosa stiamo facendo? Stiamo avviando questi rapporti, stiamo cominciando a pensare a delle forme innovative di formazione, anche con un accordo, per esempio, con la difesa, mirata attraverso l'utilizzo di loro asset poco usati al momento, caserme, sia per le nostre esigenze ordinarie, ma anche per la creazione di un ambizioso, l'abbiamo chiamato così, centro mediterraneo di alta formazione professionale. Cosa vuole realizzare questo centro? Intanto il termine stesso a Palermo, o anche eventualmente in una dimensione regionale siciliana. Guardando anche a quello che è il bacino del Mediterraneo, in particolare quei paesi del Maghreb e del Medio Oriente, sui quali si fa presto a denunciare l'iperattivismo cinese nei confronti dell'Africa. La Cina considera l'Africa un'opportunità, noi la consideriamo troppo spesso un problema legato all'immigrazione, quando invece ha un formidabile potenziale ancora inespresso, oltre chiaramente a noi, a guardare ai nostri territori e all'Europa, quindi noi possiamo realmente diventare... La Cina, apre e chiudo la parentesi, ha ipotecato molte bandiere, nel frattempo che noi parliamo... Assolutamente sì, mentre noi siamo spettatori. Quindi noi vorremmo provare a dare una mano al sistema, anche in questo, con questa proiezione verso questo mondo e anche verso il nostro, al quale siamo più congeniati. E qualche scena concreta, qualche atto concreto, quando lo potremmo vedere in questo? E allora il... Per dire, ok, già cominciamo a raccogliere... Questo già nel corso del prossimo anno, con la nuova programmazione dei Master, cominceremo ad avere un assaggio di questa apertura. Dopodiché, qui colgo l'occasione di utilizzare la nostra trasmissione come un appello, noi vogliamo lanciare un appello alle istituzioni nazionali, ma anche a quelle regionali, per poter avviare una collaborazione fattiva e strutturata, vista anche la capacità dell'università, non solo di programmare e progettare, ma anche di utilizzare le risorse. Perché non lo facciamo in una logica regionale, rivolta anche agli enti locali, per esempio, che hanno tante criticità al loro interno, mancano di professionalità e alle quali possiamo guardare. Una chiosa giusto per dimostrare quasi il livello eroico del nostro sistema. A livello nazionale noi abbiamo una dotazione dell'intero sistema universitario pubblico pari a circa 8 miliardi e 3 di euro. Il sistema delle università statali californiane, che come dimensioni è paragonabile al nostro, ha una dotazione, 10 università, di 40 miliardi di dollari. Noi, come sistema nazionale, a differenza di tanti altri contesti, ci confrontiamo con questi. Come possiamo sperare di poter fare da traino o di poter competere se non siamo messi nelle condizioni di farlo? Ottimo. E a questo punto, se mi consenta, raccogliamo noi di Toxicilia questo suo appello alle istituzioni, perché proprio da queste cifre, dei 40 miliardi della California, che rispetto alla popolazione sia universitaria sia dei professori, è quasi ridicola. Se non si entra in condivisione tra enti di ricerca, politica ed enti locali, non si va da nessuna parte. Questo è un discorso veramente che la politica dovrebbe, penso, far la sua e mi auguro che da questo talk parta questo appello per essere veramente protagonisti per il futuro. Ringrazio il professore Corso per le sue notizie e per essere qui presente in questo focus dell'università e noi ovviamente ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie a voi, grazie al pubblico. Grazie a voi, grazie a voi.